Il capoverso che è stato eliminato, chiedo agli uffici che se ne tenga conto nella ricostruzione razionale dei contenuti della mozione, perché non può essere il titolo richiamare un capoverso che è stato cancellato. Grazie. Passiamo ora alla mozione 33 della consigliere Bedori. Prego. Grazie, Presidente. La mozione è molto semplice. Si parla tanto di partecipazione dei cittadini che sono lontani dalla politica e dalle questioni della città. Qualche amministrazione fa aveva dato gli spazi di proprietà del comune gratuita a tutta la cittadinanza che ne faceva richiesta. Oggi questi spazi si pagano. Allora, io credo che se si parla di partecipazione ci deve essere veramente e gli spazi del comune sono gli spazi dei cittadini. Io arrivo dalla zona 3, attualmente municipio 3, ed era l'unica zona che veniva dato il Consiglio Comunale e l'auditorium gratuito al gruppo consigliare. Nelle altre zone pagavano lo spazio. Altresì per le associazioni, per i comitati, per i liberi cittadini che si vogliono incontrare per dibattere di cose pubbliche. Quindi noi con questa mozione chiediamo che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta a concedere tutti gli spazi di proprietà del comune, auditorium, CAM, CAG, sale consigliari dei municipi, a titolo gratuito a tutti i cittadini, all'associazione, ai comitati e alle formazioni politiche che ne facciano richiesta, con eccezione delle spese di riscaldamento ed eventuale personale.